Proseguono i controlli anche dopo la fine dello stato di emergenza. Così sarà l'azione di controllo delle forze di polizia che continuerà rispetto alle nuove norme sull'uso di mascherina e green pass a base o rafforzato nei settori e nelle attività dove è previsto da legge. Anche il prefetto di Caltanissetta, Chiararmeni, a seguito del decreto legge 24 del 24 marzo 2022, alla luce del quadro epidemiologico che continua a fare registrare i casi, ha deciso, in linea con il ministro dell'interno, di diffondere una circolare alle forze di polizia per proseguire con i servizi di controllo su tutto il territorio provinciale. Il nuovo decreto rimodula l'obbligo di utilizzo delle mascherine e ridetermina i settori e le attività per l'accesso alle quali è prevista l'esibizione del green pass base o rinforzato per il periodo che va dal 1 al 30 aprile. Quindi i titolari e i gestori delle attività nelle quali è richiesto l'uso delle mascherine o il possesso della certificazione verde, base o rafforzata, dovranno verificare che l'accesso alle attività avvenga nel rispetto della normativa. Inoltre sul sito della prefettura sarà possibile vedere e consultare una tabella riepilogativa delle attività dove verranno richieste le certificazioni e i dispositivi.